Ciao bellezze, come al solito e come vi ho detto nello scorso plan with me di marzo che se non l'avete visto lo lascio in info box e qui c'è le schede, questo è il plan with di aprile, però prima di iniziare andiamo a sorteggiare insieme la vincitrice del premio in questione che erano dei washi, questi qui e questo qui, quindi un piccolo premio, quindi andiamoci, spostiamo sul computer e vediamo subito chi ha vinto. Buongiorno bellezze, allora oggi è 30 aprile, come scritto anche sotto al video che adesso vi apro, l'estrazione avverrà il 30 aprile, non ho specificato l'arario, quindi intendevo tutto l'arco della giornata. Ho già appunto il video, questo è il video, adesso andiamo a scrivere chiuso, così che possiamo fare l'estrazione. Allora, in questo ragazzetti, ok, più su, perfetto, salviamo le modifiche e andiamo a prendere tutti i commenti. I commenti ho eliminato, beh, ho eliminato le mie risposte, quindi mettiamo dal più recente, così vanno in ordine cronologico anche, togliendo le mie risposte, però non togliendo le risposte che mi avete dato voi, comunque sono i commenti, li ho calcolati. Allora, appunto, sono 14 commenti, random.org, da 1 a 14, 3, 2, 1, mettiamo il numero 2, quindi partiamo dal basso, quindi dal vecchio, dal primo commento, diciamo, 1 e 2. Allora, la vincitrice per questo mese del pensierino è Steffi Creation, bella l'idea degli uvi mensili, le partecipo molto volentieri, 3 settimane fa ha commentato, quindi la ti invito a contattarmi sulle mail, la ragazza con il codino, chioccio la gmail.com, o sulle pagine facebook, e nulla, ti mando un grosso bacio e buccalo alle altre per i prossimi regalini. Complimenti! Allora, mi invidi tutti i dati attraverso la posta elettronica, ovvero la ragazza con il codino, chioccio la gmail.com, e provvederò a spedirti il pensierino. Ma passiamo appunto al plan with me e al pensierino di questo mese. Ovviamente vi lascio sempre alla fine tutto il pensierino a vedere, quindi spero che il plan with me mi piaccia e che possa esservi di ispirazione. E ciao! 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 bellezza allora i legalini per il prossimo mese quindi l'estrazione che si terrà il 30 maggio e quindi la partecipazione e i metodi per partecipare sono sempre gli stessi ovvero iscrizione al mio canale like sulla pagina facebook, sito instagram e lasciare da uno a massimo i tre commenti qui sotto ovviamente non vi richiedo commenti particolari se siete voi a scrivere quello che volete però ecco non mi aspetto primo, secondo, terzo, quarto almeno dei commenti costruttivi e il pensierino per questo prossimo mese saranno tre penne perché voi sapete benissimo che io amo le penne blu e ho preferito e ho scelto di mettervi questa penna qui che stra adoro e amo tantissimo e scrivo con questa all'università e anche l'agenda in colorazione nella vera tua agenda poi questa qui che è una novità con cui mi sto trovando davvero bene e ve la recensirò a più presto la penna tipo friction di tiger in più due uesci in questo caso questo qua di mickey mouse e questo qui che sarebbe quello lì tipo post-it e per finire un foglio di stickers questi qui sono in sughero a forma di baffo ovviamente ci sarà una vincitrice che vincerà tutto questo qui e l'estrazione sarà appunto il 30 maggio e saprete nel primo ultimo di maggio chi sarà la bifortuna vincitrice e i premi per il prossimo mese vi ricordo che bisogna essere iscritti al mio canale e lasciate tanti like ciao bellezze ciao ciao ciao